Ok, benvenuti a tutti alla quarantesima sessione di Bootcamp, grazie mille per aver preso parte Allora, oggi abbiamo tantissime nuove reclute, benvenuti a tutti Entreremo subito nei dettagli di cosa dobbiamo fare oggi Perché è molto semplice e non vogliamo perdere tempo, dato che effettivamente c'è lavoro da fare Nelle scorse sessioni abbiamo portato avanti la stampa di tutti i moduli che ci servono per assemblare il secondo anello E oggi non faremo altro che portarla a termine A differenza della scorsa sessione, questa volta ho i due moduli mancanti Uno che è quello assemblatore e l'altro che è quello scudo E insieme a quei due più un ultimo modulo braccio dovremmo aver terminato teoricamente tutti i moduli da saldare Quindi oggi andremo con questi tre moduli, due sono piccoli, inizieremo da quelli così da stamparli molto velocemente Dopodiché passeremo al modulo braccio che come sapete è un po' più lento E nel mentre la seconda squadra andrà effettivamente ad assemblare quello che sarà il secondo anello Ora, oggi abbiamo parecchie persone ma la maggior parte sono reclute Non so se con il capitano Armin vogliamo effettivamente intraprendere quella che era stata accennata nella scorsa sessione Cioè la missione di recupero materiale alla base Bravo Non so capitano, questo qua magari lascio a lei la decisione poi quando parlerà a lei A questo punto se ci sono domande fate pure Ma prima lascio la parola al capitano Armin che magari ha qualcosa da aggiungere Prego Ok, allora innanzitutto il mio personale benvenuto a tutte le nuove reclute Spero di vedervi spesso arzili e pompanti come sempre E come accennava prima il capitano Gold Probabilmente numeri e tempo permettendo Torneremo in base Bravo per prendere i lingotti Perché adesso stiamo bene con i materiali Ce ne sono a sufficienza per continuare la costruzione Però in concomitanza con la costruzione dei vari moduli assemblatore È il caso di andare a prendere le materie prime per cominciare anche la produzione sul luogo Perché se non sbaglio Maxen mi avevi riferito che uno dei materiali fondamentali stava terminando È corretto? Esatto Ok Quindi tutto qua Probabilmente formeremo una squadra di massimo 4 persone E andremo in base Bravo Con un trasporto civile e con un incrociatore Per il resto la sessione sarà appunto di costruzione Dobbiamo costruire il quarto braccio Alla vostra sinistra vedete tutti i moduli attraccati al deposito Se volete potete anche girarvi Dobbiamo costruire il quarto braccio E poi i moduli restanti E poi possiamo procedere con l'assemblaggio Però con l'assemblaggio scusate È molto veloce come lavoro quello della stampa Non dovremmo avere problemi Rinnovo alle nuove reclute il regolamento Mi raccomando Quando si lavora Serietà Non si parla, non si ride, non si scherza Ci sono dei momenti per ridere e per scherzare Ma se si commettono degli errori Durante le fasi di collegamento Di attracco, di stampa Poi è tempo che viene perso E non si può dedicare ad altre attività Per il resto Buon lavoro a tutti Ci tengo ad aggiungere un'altra cosa Oltre che tempo perso È rischio per tutte le nostre strutture e navi Perché è un attimo che un piccolo modulo Possa diventare un proiettile E si vada a schiantare contro altri moduli Ed è per questo che oggi stiamo dando la priorità Alla stampa del modulo scudo per il dry dock Per evitare questo tipo di incidenti Cioè non per evitarli Per evitare i danni causati da questi incidenti Che purtroppo ci sono stati E ci saranno Perché insomma gli incidenti sul cantiere capitano Allora come la scorsa volta Io e il capitano Armin supervisioneremo le operazioni E per quanto riguarda invece i gradi Scusate, poca energia Il più alto in grado andrà a dirigere le operazioni Purtroppo dobbiamo escludere SCART Perché il suo ruolo è soltanto di supervisione attitudinale Quindi si passa da SCART sotto Quindi Maxen da una parte E FANIKIN dall'altra Allora, per quanto riguarda l'assegnazione delle navette Per evitare qualsiasi problema I gradi più alti utilizzeranno le navette da stampa Quindi anche qua FANIKIN e Maxen Mentre sarà vostra scelta A chi far pilotare le navette da movimentazione Armin io farei fare i due moduli piccoli a sto punto Se ne pare Quelli nuovi Quelli superiori? Ah sì, quelli nuovi Sì, sì Scudo Ok Modulo scudi Adesso proiettore 1 Mi serve qualcuno che mi dia una mano Muovilo Un momento, un momento Sto azzerando tutto Ah, bene Proiettore 1 sarà di FANIKIN Mentre proiettore 2 di Maxen Quindi adesso carico l'altro modulo Proiettore 2 On progetti Assemblatori Modulo assemblatori Va bene Ci siamo Decisamente Va bene, va bene In questo caso credo che convenga Guardate, per coloro che dovranno stampare Credo che convenga stampare partendo da questa parte Ok Passando praticamente all'interno del modulo Credo convenga fare così E Per quanto riguarda invece gli scudi Come vedete sono abbastanza corti Non ci dovrebbe essere nessun problema Per tutti coloro che invece devono saldare Soltanto utilizzando il saldatore di livello 1 Guardate bene i dettagli Generalmente tutte le finestre E ripeto, tutte le finestre devono essere semi smerigliate E per il resto guardate adesso la proiezione Così capite quali sono i dettagli Nel mentre che si organizzano le due squadre Si Si può vedere, basta Bisogna ricordarsi che i blocchi interni sono dissaldati Sì I blocchi interni sono soltanto quelli vicino ai punti di aggancio È un po' più avanti se ce la fai Perché mi sa che devi Ah no, ci sei andato vicino Va beh, va niente, dai Continua pure Al massimo ripassi dopo Eh, bravi ragazzi che state saldando voi Basta che non vi ammassate Tranquilli Piuttosto Maxen Muovi un po' la punta ogni tanto Per cercare di coprire più area possibile Oh, no Fabrizio Quelle lì vanno saldate completamente Con finestre Tecno Davide, non parlare sopra le persone E con finestre intendo quelle fatte di vetro Quelle lì vanno saldate parzialmente Va bene Stiamo avendo problemi con la saldatura? Sì No, è stata una pessima È più una questione di permanenza Maxen Quindi direi Mettici un po' di meno Piuttosto a passare Ok Quindi ci dovremmo essere Air Commander fai un controllo Quando mi dici che è tutto a posto Allora facciamo finire di saldare a Maxen Per quanto riguarda voi ragazzi Invece dovete occuparvi dell'esterno I piccoli dettagli Quindi le finestre E basta sostanzialmente Energia Va bene Quando ci siamo Ditemelo che vengo a dare il distacco Capitano Sì Può attivare uno dei carrelli laterali Subito Non riesco Subito Subito Uno dei carrelli laterali Ah Sì Ah con quello sopra non ce la fai ad attaccarti? No C'è A dire La parte che rientra Ok Allora ti attivo quello laterale Va bene Ok allora Coloro che sono lì dagli agganci per favore Sganciate Ok Niel Tecno Davide Perfetto Ci siamo Preso Benissimo Modulo completo capitano Quindi scudi L'altro modulo è fatto Lì avevamo già fatto gli altri due Quindi quattro moduli laterali sono fatti Ci manca un braccio E i due moduli superiori Ha nessun incongruenza Ha agganciato nello stesso punto in cui ci sono gli altri moduli Eh sì So che stiamo finendo lo spazio però Vuole che saldo un altro modulo di questi? Eh Non so perché dovremmo teoricamente saldarlo con le navi grandi Si mette 5 minuti Eh ma sto pensando perché se adesso attacchiamo questo Per il modulo scudi ci rimane Un Un posto per il modulo superiore Eh no Dovremmo attaccare due moduli superiori Cioè secondo me Mi sembra che manca anche un altro braccio Perché qui ce ne sono tre su quattro Eh infatti manca un braccio ancora Capitano le consiglio di Comincare a montare questi qua Così non dobbiamo montare Eh ma Eh appunto stavo pensando Dato che siamo verso la fine delle stampe Magari possiamo Possiamo effettivamente passare All'assemblaggio Non spreco i materiali Fare un altro doc secondo me Sì Beh oddio Non che costi tanto E fare sta cosa qua che vedete No lo so Più che altro Si è agganciato Agganciato ottimo Benissimo Bravi Va bene Eh Maxen In posizione Stampiamo La stampiamo Il momento che mi Consulto un attimo con il capitano Armin Vediamo Capitano Allora Abbiamo saldato il modulo Stavamo pensando Ci conviene allungare il molo Perché non ci starebbero tutti i moduli Oppure Saldiamo gli ultimi E iniziamo subito l'assemblaggio Ma guarda io ti suggerirei di allungare il molo Che tanto abbiamo il blueprint caricato lì Sì Ok Costruiamo l'ultimo braccio E i due moduli superiori che abbiamo fatto Perfetto va bene Così poi assembliamo tutto Va benissimo Allora mi rubo un attimo Maxen E gli faccio Assemblare il modulo Ok Allora abbiamo l'ordine di allungare il molo Quindi Maxen vieni per favore al deposito moduli Io accendo il proiettore che tanto è già tutto caricato Perfetto Va bene Maxen Parti dal molo preesistente e salda Dovremmo Dovremmo metterci tipo un cazzo di niente più o meno Componenti di propulsione E mettendo i motori normali perché mancano pure quelli Va bene Anche nel power c'è Quindi abbiamo ancora 5 moli disponibili per 3 moduli Ciao Ciao Buon lavoro Qual è il problema Allora Maxen Vieni al modulo container Modulo container sì Qual è il problema Questo Si è spento tutto Alcuni si sono spenti alcuni merge block E alcuni dubbi sono rossi Guardate guarda guarda A posto E c'è ancora qualche blocco a saldare Allora qua Qua si è danneggiato No il problema era le batterie Che avevo messo tutte in ricarica momentaneamente Per Per ricaricarle Un merge block spendo Bisogna accedere Un momento perché ho visto che Si è danneggiato anche un tubo qua Ok Allora un merge block spento Posizione Però quello di zona ha propulsori Spendo Si 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 Ok vado a vedere In completo La NAM Dove la metto Completo Blocco di 9 e 23 On Fuori dalle palle Andata Grazie mille Maxen Va bene Qualcuno prima aveva mandato un PTS Air commander No prima ancora Nessun altro aveva richiesto un PTS Va bene Dimmi pure air commander La NAM Cosa faccio La zona di stampa Se qua abbiamo finito ragazzi si va a stampare di nuovo Allora l'altra squadra si è accollata il modulo braccio Quindi noi dobbiamo fare due moduli superiori Che dovrebbero essere semplici Andata Oh god oh fuck Oh no Una lasso d'acciaio La vado a prendere mia Oh god La prendevo in faccia Per poco Rimorchiatore pesante in posizione Capitano Mi allontano Sì come primo Speciale Rick rapporto Grazie mille Rick Devi andare a fare supervisione di sopra Perché sono a corto di un tenente comandante Va bene Grazie Arrivederci Capitano il dry dock non serve solamente per costruire le navi Come porto spaziale No generalmente no A meno che non lo utilizzeremo proprio per Non so come punto d'aggancio per poi saltare Cosa che potremmo fare teoricamente Non dovremmo costruire un'altra Secondo me Una Altre quattro navi della flotta Tutte allo stesso momento quindi No ma Nessuno l'ha pianificata questa cosa Stai tranquillo L'unico progetto che abbiamo per ora è il dry dock E poi dopo Dopo si vedrà Un anello abbiamo finito Guardateli Sono tutti lì A mo' di set di Lego Ottimo è bellissimo Ok eccovi qua Appunto Abbiamo tutti i moduli davanti Dobbiamo scegliere il da farsi Bene Direi Partire con Un modulo braccio sicuramente E se lavorassimo sempre anche qua in due squadre Cioè una parte fa una metà E l'altra parte fa l'altra metà Più o meno come abbiamo lavorato la prima volta Che poi abbiamo unito due mezze lune praticamente Però servirebbe un terzo Che ho un trasportatore In realtà ne servirebbero due in più Eh infatti Io suggerirei di muoverci una squadra In modo che non dobbiamo stampare altri veicoli Ok E ci stanno più persone per eventuali errori Ok va bene Allora sì sicuramente lavoriamo in più sicurezza Perché ci sono meno veicoli in movimento Ma magari faremo un po' meno progressi Ma alla fine è soltanto una questione di attaccare Quindi nessun problema Sì beh con più gente che guarda Comunque forse facciamo prima Facciamo un attimo una simulazione mentale Allora Un rimorchiatore prende un modulo L'altro rimorchiatore Prende l'altro modulo E lo attacca Ok Finiamo diciamo l'anello completo O facciamo metà E poi attacchiamo l'altra metà Io sono dell'idea della metà E poi l'altra metà Perché se no poi Se arriviamo a tre quarti di anello Diventa difficile Che ne so Infilare un angolo Perché abbiamo due punti da gancio E dovremmo arrivare al millimetro Sì e poi va a finire che Serve una terza nave Mettiamo ad uno subito Il modulo stabilizzazione Una parte così almeno rimane fissa Allora facciamo così Guardate Partiamo da un modulo superiore Poi Cioè il modulo superiore Attacchiamo al braccio Al braccio Attacchiamo il modulo stabilizzazione Poi che ne so Modulo scudi Così magari inizia a ricaricarsi Perché il modulo C'è un po' nelle batterie Per quel poco Che può Modulo scudi Poi Altro braccio Altro modulo superiore Quello lì rimane fermo E passiamo a A costruire l'altra metà Che poi alla fine Andremo ad attaccare Vabbè l'importante è che hai deciso Che alla fine attacchiamo tutto Sì sì Arriviamo a due metà E poi attacchiamo le due metà Facciamo Diciamo facciamo Mezzo cerchio Mezzo cerchio Poi li colleghiamo insieme Esatto sì Forse servirà comunque Il terzo rimorchiatore No 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 Abbiamo i moduli di stabilità Va bene così Va bene Siamo pronti per assemblare Modulo superiore dai Perfetto Una cosa fondamentale Ai due piloti Delle navi rimorchiatrici Adesso È completamente tutto Nelle vostre mani Noi cercheremo di darvi una mano Con gli allineamenti Però Se fate errori voi Poi si spaccano i moduli Quindi adesso siete le persone più importanti Quindi sì Non pressure proprio BTS Maxen Sì Maxen Dov'è che spariamo l'assemblaggio? Uno spazio grande Sì cerchiamo di stare Lontano dal dry dock Lontano dal dry dock Faci bravo Negli appunti Ok Mettetevelo visibile E E si fanno qua le manovre Sapete come farlo? Siamo sufficientemente vicini E sufficientemente lontani Per coloro che non sapessero come fare Adesso dovete premere K Andare su GPS Andare su GPS Che la tabella è in fondo Adesso Doveste vedere Armin 1 In grigio Fate mostra nel lad Cioè ci cliccate sopra E fate mostra nel lad in basso Questo qua vale per Ogni volta che qualcuno manda Un GPS in chat globale Vi viene registrato automaticamente Vai Vai Ok capitano Capitano Via Attivo Andata 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 Perfetto Intanto per tutti coloro che Che non Che non stanno Che stanno guardando proprio come me Vi spiego come funziona il modulo Come vedete Se guardate dal lato Potete vedere dei moduli Di miglioramento sostanzialmente Di upgrade Come potete immaginare Dietro quei moduli Ci sono gli assemblatori Il sistema è stato inteso così Sono Due serie di assemblatori In parallelo Sostanzialmente ci sono due assemblatori Chiamati Assemblatori 1 master Dove voi Darete l'ordine di produzione Dopodiché ci sono Altri tre assemblatori Ovviamente tre per parte Assemblatori che sono Gli assemblatori slave Che lavoreranno Partendo dall'ordine Che avete dato Nell'assemblatore 1 Per poter dare questa Per poter sfruttare Questa meccanica Dovete andare Nel pannello di controllo E nella Nel pannello di controllo Dell'assemblatore Dovete Mettere Dovete Cercare la spunta Modalità collaborativa Il problema Il problema è che Space non è esattamente Intuitivo Cioè Dovete mettere Modalità collaborativa In tutti gli assemblatori Che volete Che lavorino Per il master Sostanzialmente Dovete cercare Tutti quelli che saranno Gli slave Capitano attacchi Attaccato Vai 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 Perfetto Ok Constaccati Meteo rimani In Ecco Bravo In stabilizzazione Prossimo modulo Perché non Qui Non riesco a rilevare Le batterie Bliat Bliat Se cazzo Io scrivo Batteria Sai cosa Armin Lo lasciamo come Istareg Adesso Sì Sì Quanto cazzo Ci hai messo Per rinominarle Tutte 10 minuti Ok Piccia Puoi andare Capitano Vado E Attaccata Ho sentito Complimenti Ho sentito Una piccia Per cazzo Eh sì Anche quello Termine tecnico Dell'accademia Eh A tipo Blocchi attivi E siamo connessi Ragazzi Flawless Devo dire Qua non si è mosso Di niente Ok Ottimo Oh abbiamo finito Un mezzonello Ma Sì Ottimo Sì Quasi Non ci siamo No Ti devi avvicinare A i merge block Spazio Ok Ok Staccata Andata Staccati No Beh Ok Grandi tutti Ricordo di posare gli oggetti Muffoli Uh ma Armin Quindi tu hai gli lc Beh Buono Ho preso anch'io Se è per questo Che fanno Lo compri Eh beh Che fai Te ne privi Ma va che bella Che l'è Ma dai Ma di che cazzo Stiamo parlando Ma è fantastico Eh Armia Mi potete mettere Dove sono i pezzi Del nuovo dlc Non li vedo Sono sotto Sono sotto Devi metterci due rotori Come c'era il treno Oh Sì Non avevo tempo Sarebbe stato Bellissimo Se invece di un'antenna Ha portato un'antenna Lata Come Come principio Eh Eh Va bene Mi raccomando Lasciate tutto L'equipaggiamento E potete poi riuscire Grazie mille a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Buona serata